L'altro giorno ho fatto un po' di rifornimento e quindi vi faccio l'aulo degli snack asiatici che ho preso Comunque era veramente da un sacco che non parlavo a una camera Per quasi un anno e mezzo ho parlato davanti a un telefono e mi fa veramente senso Io direi di iniziare con la prima busta e iniziamo con questi quattro ghiaccioli Eccoli qui, questi sono quattro ghiaccioli, limone credo, coca cola, fragola, aranciata Iniziamo benissimo Questo biscotto alla fragola, questo l'ho visto, dovrei provarlo il prima possibile E pane allo scalogno e prosciutto Ho preso anche degli spaghetti istantanei Però mi ricordo che le avevano chiamate tipo tagliatelle Ho paura? Probabilmente sì Perché compro queste cose? Non lo so Questo snack, snack di patate con questi gusti Queste sono delle gelatine con lo zucchero, non lo so Regà, che ho soffreso, sono sincera Andiamo con la seconda busta, questa bella pesante Iniziamo con questi popcorn al cioccolato Allora, io questi li ho già provati, però veramente sono buonissimi Mi ricordano tanto i popcorn della Milka, non so se ve li ricordate Spero di trovarvi una foto, ve la metto qui Oh, buonissimi, vi giuro Poi questo snack di chave, me lo ricordo perché l'ho chiesto al tizio centomila volte Altra pasta istantanea, perché ovviamente il mio stomaco deve provare queste cose Questo è spicy Un altro ramen, questo non è piccante però perché ha il pollo Poi abbiamo i nostri pezzi corti, ovvero le gelatine Io amo le gelatine, sugli altri social mangio solo gelatine Eppure qui mangerò solo gelatine E se vi interessa, il tizio alla cassa mi ha regalato anche una gelatina Forse perché sa che quasi ogni settimana vado lì a comprarle Questo era l'aula degli snack Prossimamente pubblicherò i video assaggi E nulla, rimanete sintonizzati perché penso che riutilizzerò questo canale Non so per cosa, però mi va Ciao Ciao